Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala la chiusura per lavori del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio fino alle 18 di oggi. In a 12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo, un'entrata in direzione Genova e un'uscita provenendo da Genova. Si ricorda che tra Prato e Vaiano a causa di una frana è chiusa la strada regionale 325 tra la Cartaia e la Briglia. Usare via di Faltugnano in direzione Vaiano e via di Cantagallo dalla collina Figline in direzione Prato. Riapertura con senso unico alternato intorno al 20 marzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!